Come è noto per il personale del ruolo sanitario la vaccinazione è obbligatoria, quindi noi abbiamo l'obbligo di adottare le misure previste dalla legge, l'estrema razza e la sospensione dal servizio con la conservazione del posto. Abbiamo istituito una commissione perché il personale, prima che sia destinatario di questa misura, viene ascoltato, viene sentito, può manifestare delle contraddeduzioni o può produrre la documentazione sanitaria di esonero. Diciamo che le sedute sono state due, in una prima seduta il personale coinvolto era di 25 unità, tra cui due medici, nella seconda seduta il personale coinvolto è stato di 49 unità e si è trattato di personale infermieristico e personale ausiliario sociosanitario. Ora, la sospensione non scatta direttamente, prima se il personale ha delle ferie residue viene messo in ferie d'ufficio, se ha delle ore in sovrannumero vengono smaltite e solo dopo viene adottata questa misura, diciamo, estrema che è quella della sospensione dalla retribuzione. Ma il posto viene conservato. Chiaramente questi provvedimenti che hanno coinvolto questo contingente di personale non mettono a rischio l'assistenza sanitaria. Noi abbiamo tutti gli strumenti per reagire a questo tipo di intervento, perché abbiamo le graduatorie a tempo determinato per il personale infermieristico e anche per gli OS. E nel caso in cui il reclutamento attraverso queste due fonti sia, diciamo, lento, perché comunque dobbiamo dare del tempo previsto dal regolamento per reclutarli, Nell'emore di questo reclutamento abbiamo comunque un sistema di fornitura di lavoro temporaneo che ci consente di reclutare personale in tempi brevissimi, quindi nessun rischio di detrimento dell'assistenza.